Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Solo un anno fa Arisa scriveva che era alla ricerca di marito e un anno dopo è innamorata più che mai. La cantante ha presentato il nuovo fidanzato, Walter Ricci, ai suoi follower su Instagram con una serie di foto e video contato di bacio che la ritraggono in ascensore. Insieme al fortunato che le ha rubato il cuore, che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di Tefanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Scrive Arisa mentre invita i suoi follower a partecipare allo spettacolo del fidanzato, artista jazz molto famoso. C'è bisogno d'amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Walter Ricci è il nuovo fidanzato di Arisa. Ha 35 anni, sei in meno rispetto alla cantante. Fa il musicista e cantante jazz stando a quello che riportano online il sito Musicam Boyaz. Di lui, a 14 anni il cantante jazz suona già con il suo quartetto e a 17 anni, nel 2006, vince il prestigioso premio Massimo Urbani. L'anno dopo vince il premio Chicco Bettinardi al Piacenza Jazz. Due anni dopo conosce Stefano Di Battista, con il quale suonano le sue tourne italiane all'estero. Contestualmente, registra con Lorenzo Tucci nell'album Touch e poi con Guido Pistocchi in Springtime. Segue la collaborazione con Mario Biondi e poi con Daniele Scannapieco, con il quale registra il bellissimo album dedicato a Colporter. Quindi, duetta anche con Michael Bublé. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.